Un soprano che in tutto il mondo ci inviglia perché è il mio avvio, con noi Sonia Vizentini. Un soprano che in tutto il mondo ci invito a scegliere gli offi, tranne il sindaco e l'assessore perché è un medico istituzionale. Allora, vorrei avere sul ring i pugili della Slovenia, dove sono gli amici della Slovenia perché anche per loro c'è un medico istituzionale, abbiamo l'inno. E poi vorremmo un bel applauso, purtroppo in vario non sono potuti essere con noi perché hanno avuto dei problemi di influenza. Ho detto che, spero di sì. Ah, mi fanno un applauso, vuol dire che mi sono... Valla Sofis, sentitevi con i Slovenia. Oh, ho detto benvenuti qui in Italia per questa riunione e ci vedremo in Slovenia. Allora, prima facciamo l'inno della Slovenia. Tutti i piedi in onore dell'inno della Slovenia. Sì. Tutti i piedi in onore dell'inno della Slovenia. Tutti i piedi in onore dell'inno della Slovenia. Ho detto che i tutti i piedi in onore dell'inno della Slovenia. E oggiicto tocontavo sognano sorgendo in na服lato e seguo l'inno di Italia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.